Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Per quanto riguarda il pagamento delle pensioni di maggio è arrivata la conferma di poste riguardo le date. Vediamo dunque insieme il calendario con l'ordine alfabetico per il ritiro. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. È stato confermato per il pagamento in posta di maggio 2022 il ritorno al calendario ordinario quindi l'abbandono di quello anticipato che è stato protagonista degli ultimi due anni caratterizzati dal covid-19. Con la fine dello stato di emergenza poste italiana aveva fatto sapere del ritorno al passato per quanto riguarda il pagamento delle pensioni di aprile che sono avvenute dopo due anni secondo il vecchio calendario. Anche per il pagamento delle pensioni di maggio 2022 le cose non cambieranno non ci sarà nessun anticipo su aprile ma il calendario sarà dal 2 al 7 maggio per chi ritira i soldi in contanti. Vediamo dunque la possibile suddivisione alfabetica che si chiederà di rispettare. Lettere dalla A alla B il 2 maggio, lettere dalla C alla D il 3 maggio, lettere dalla E alla K al 4 maggio, lettere dalla L alla O il 5 maggio e lettere dalla P alla R il 6 maggio. Ricordiamo inoltre che chi riceve invece il pagamento in posta il giorno da segnare è il 2 maggio. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.